La prossima fiera d'ottobre a Larino non si farà più nel campo sportivo ma nel nuovo impianto di Contrada Montiarcano dove è stata inaugurata la tanto attesa area fiera. Al taglio del nastro presente l'amministrazione comunale uscente al gran completo a cui bisogna riconoscere il merito di aver portato avanti il progetto. Due anni di lavori per un importo totale di 1.850.000 euro, soldi presi dai fondi post-sisma e che l'amministrazione guidata da Vincenzo Notarangelo ha voluto investire nella struttura individuando anche l'area in quella prevista inizialmente per gli impianti sportivi. Cambiando la destinazione d'uso di un terreno già comunale ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Michele Palmieri che ha seguito da vicino la realizzazione abbiamo risparmiato sull'acquisto di una nuova area e abbiamo incaricato per progetto e realizzazione dei lavori la ditta di biase di Campobasso affidando, aggiunto ancora internamente al comune la direzione dei lavori con un ulteriore risparmio di circa 100.000 euro. Una struttura moderna che ora però per sopravvivere ha bisogno di almeno tre o quattro eventi all'anno come spiegato dal sindaco Notarangelo. Era un impegno preso con gli elettori che abbiamo mantenuto come tanti altri, una soddisfazione per me e per tutta la mia amministrazione perché lasciamo a Larino un gioiello che potrà dare soltanto sviluppo e ricchezza alla nostra comunità. Accanto alla fiera d'ottobre andranno fatti altri eventi, secondo me ci vogliono degli eventi fieristici almeno trimestrali per dare possibilità alla struttura di mantenersi. Naturalmente è un edificio polifunzionale quindi potrà ospitare anche spettacoli, attività musicali e affine, anche attività sportive volendo. La sola struttura ha 1500 metri coperti, ha degli spazi ulteriori esterni che possono ospitare degli espositori, abbiamo ulteriori 250 metri quadri se non erro di biglietteria. Una struttura che ovviamente è a disposizione di tutto il territorio. La struttura naturalmente è del comune di Larino e sarà a disposizione di chiunque ne volesse fare richiesta. La funzione è appunto di realizzare una vetrina dei prodotti molisani, della molisanità. All'inaugurazione hanno preso parte anche la neoconsigliera regionale della Lega Aida Romagnuolo e la parlamentare di Liberi Uguali Giuseppina Occhioner. Una giornata di festa per tutta la comunità di Larino che ha avuto a disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere l'area fiera durante tutto il giorno. Spazio anche ad attività ricreative per i bambini con trucca bimbi e gonfiabili, ancora show cooking dello chef Maurizio Santilli e per finire spettacoli musicali. All'organizzazione dell'evento hanno partecipato le associazioni larinese Car, Vespa Club, Motoclub e Club 500.